Oggi siamo qui per andare a completare le missioni della settimana 4 e della stagione 4 di Fortnite Io vi ringrazio per aver aperto questo video ma prima di incominciare mi raccomando like e iscrizione qualora non l'aveste fatto Codice Paul e le ragazze Getty perchè è il codice più bello e più figo al mondo e noi possiamo subito immergerci nel video Vi dico subito che è un video un po' veloce giusto così perchè sono appena uscite le sfide della settimana 4 quindi è giusto che ve ne faccia vedere Ok raga partiamo subito a cannone con esamina forzieri a pantano palpitante molto molto semplice darà ben 25.000 xp E pantano palpitante per chi magari non è in mente o per chi non sa che posto è semplicemente vicino a foresta frignante Dove comunque ci sono gli slurp che ti danno la vita comunque molto molto facile Poi eliminazioni raga a foresta frignante saranno le eliminazioni foresta frignante Foresta è il posto in mezzo alla mappa quella con ovviamente una foresta Saranno ben 3 eliminazioni Ah mi sono dimenticato di dire che forzieri sono 7 da aprire raga 7 forzieri da aprire E 3 kill a foresta frignante che daranno ben 25.000 xp Abbiamo poi infligi danno entro 10 secondi da rimbalzare da un ombrello a sabbie sudate Cosa vorrà dire quando prendete un ombrello a sabbie sudate quando ci andate sopra e rimbalzate Entro quei 10 secondi che atterrate dovete fare danno a un nemico In questo caso dovete fare una kill intera quindi 100 di danno ovvio se non ha shield Si sarà 100 di danno mi sembra un po' difficilina questa non lo so raga Per me è un po' difficile quindi non so se la riuscirò a fare subito Comunque sono ben 100 danni 25 meno xp e basta Poi abbiamo distruggi vetrine del collezionista alla collezione raga Questa raga è penso la sfida più difficile di questa settimana Anche perché io non so che posto sia il collezionista e non so manco cosa devo fare Ovvero si distruggere le vetrine non lo so ma non so in che modo Quindi penso di portarvelo domani sul canale Quindi farò proprio un video di tutte le sfide che bisognerà fare Comunque vi porterò un video In seguito abbiamo a creare robot di Stark alle Stark Industries Dovete creare ben 5 robot Ovviamente le Stark Industries è tipo la pinna con i pendenti di adesso Solo che ovviamente sappiamo tutti dove è Stark Industries Il nuovo posto quello sopra la piattaforma Dovremo invece a creare 5 robot di Stark ovviamente di Iron Man E basta molto molto semplice Però dovete stare attenti raga a non morire perché sappiamo che c'è sempre tanta gente E se magari a creare qualche bot e vi arriva un tipo da dietro beh siete morti Poi abbiamo distruggi raccoglitori E poi raga c'è la sfida da ben 50.000 XP Quella più grossa di tutte diciamo E sarà infliggere danno agli avversari con i resti di un raccoglitore Raga con i resti di un raccoglitore è una roba simile a quella di prima Solo che ovviamente bisognerà infliggere danno con i resti di un raccoglitore Darà ben 50.000 XP Sono appunto 10.000 danni Mi sembra sto vedendo adesso 10.000 danni Poi abbiamo infliggi danni agli avversari a Foschi Fomeioli Foschi sappiamo tutti dov'è Comunque è quel posto all'angolo della mappa dove ci sono due diciamo cannoni E si è semplicemente quello due foschi ecco E poi abbiamo infliggi danni agli avversari all'autorità Autorità al centro della mappa Ragazzotti io vi ringrazio per essere stati con me Vi ringrazio per aver visto il video Ci vediamo domani oppure stasera in live alle 20.30 Io vi ricordo sempre codici Powa E bella a tutti boys